buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi 20 aprile 2020 vi ricordo che questa sera alle 21 e 30 regolare ci sarà quarta repubblica da non perdere perché da tempo stiamo affrontando questo imbarazzante balletto sulla riapertura dell'italia vi segnalo oggi ci sono alcuni pezzi mi sembra sul repubblica è chiarissimo ma non solo sul repubblica su tanti altri che mettono a confronto le riaperture degli altri le riaperture dell'italia siamo dei pazzi siamo dei pazzi scriteriati beh certo se siamo gestiti dai ricciardi da erezza e diventano poi dopo ne parleremo i metri a pensè no anzi i decisori della politica italiana è del tutto evidente che le nostre scelte sono folli beh vi faccio un esempio soltanto molto banale intanto il grido di dolore delle scuole paritarie che sono ancora un presidio di libertà educativa in questo paese ma ciò so che questo interessa poche persone anzi anche se hanno circa 900 mila studenti ma non è questo il punto sapete qual è il punto che in tutta europa le scuole aprono in tutta europa le scuole aprono francia germania e spagna almeno ci provano ad aprire e l'italia no probabilmente toc toc ministra azzolina forse magari ripensiamoci a questa cosa c'è l'istruzione che noi raccontiamo sempre essere la cosa più importante l'educazione i nostri figli sapete come si è risolta con l'assunzione di 5.000 persone e poi smettiamolo anche con questa retorica dei professori eroi fermi ci sono alcuni professori straordinari ma da tutta italia da tutta italia mi arrivano mail per cui il problema delle lezioni non nasce solo e tanto dagli studenti che sono in digital divide che non hanno il computer casa ma che non hanno la rete a casa no dai professori che non sono in grado di fare lezioni perché non riescono a fare le lezioni in termini digitali se hanno una minoranza se hanno qualcuno si prendono uno per uno questi professori li si manda obbligatoriamente a fare un corso di come possiamo dire di specializzazione ma invece ora che facciamo assumiamo 5.000 persone lazzolina è contenta perché abbiamo chiuso le scuole il solito concetto lockdown per evitare di fare qualche cosa non la facciamo per niente lockdown degli italiani in casa lockdown delle industrie in italia lockdown della sicurezza in italia tutto lockdown questo è il grande straordinario principio dei nostri amministratori pubblici che un giorno nella loro vita forse neanche uno hanno lavorato ecco le regole per riaprire le aziende dovranno autocertificarsi dice il corriere della sera cosa vuol dire autocertificarsi uno pensa magari già da ora possono ripartire no autocertificarsi dal 4 maggio in poi ragazzi stiamo aggiungendo una bardatura le tante bardature burocratiche gius lavoristiche fiscali che hanno le imprese italiane sapete che cosa dovrebbero avere le imprese italiane zero regole sapete cosa dovrebbero avere le imprese italiane zero zero tasse per i prossimi anni invece noi qua che facciamo gli rimettiamo le regole gli rimettiamo le tasse gli facciamo indebitare ancora di più e sapete che cosa gli diciamo e già che ci siete autocertificatevi immagino che l'autocertificazione delle imprese sia molto simile a quella che questi geni hanno fatto per gli italiani visto il comma di qua e là solo con il piccolo problema che le imprese gli vengono a bussare alla porta se si permettono di fare qualcosa che non va e gli fanno un mazzo così oggi a quarta repubblica questa sera vi farò vedere un ristoratore che mentre stiamo qua tutti quanti a dire ripartiamo l'italia ristoratori chiusi eccetera gli è arrivata una dell'inps derivata una cartella dell'inps allora tu a questi stronzi scusate il termine che vanno una cartella dell'inps a un nostro villarosa ehi villarosa mi spieghi qual era il concetto che non c'erano i due anni di accertamento i due anni di accertamento poi ci sono non ci sono poi dopo un stesso emendamento del movimento 5 stelle lo toglie com'è sto fatto siete dei fenomeni siete veramente dei fenomeni arrivano gli accertamenti dell'inps dei contributi mentre tu hai chiuso il tuo ristorante e non l'hai chiuso perché lo vuoi chiudere tu perché giustamente sei in emergenza nazionale io la sono fissato perché ci sono questi fenomeni questi giovani ragazzi del movimento 5 stelle forse alcuni di questi veramente in buona fede ma che adesso fanno i guru come se sapessero tutti quello che sanno è esattamente la poca esperienza che hanno avuto forse lui nella diciamo nelle multe che ha ricevuto all'azienda di suo fratello per tassi usurari speriamo che questa cosa qui che lui non c'entra niente ovviamente però queste sono le esperienze di questi giovani ragazzi il massimo che comunque io posso pensare che sia un'esperienza rispetto a quelli che non hanno mai fatto nulla nella vita l'egole severe per le riaperture questo che mi fa impazzire siccome questi nessuno di loro tranne alcuni e patonelli è uno di quelli perché patonelli a differenza degli altri un'impresa ce l'aveva in una laurea in ingegneria se l'è presa tant'è che patonelli oggi una serie di interviste dice proviamo a riprendere proviamo a riaprire facciamo riaperture per zone però la differenza tra patonelli che ha lavorato nella sua vita e tutta questa mandria di deputati che non si presentano neanche in parlamento cioè neanche il loro lavoro per cui sono pagati oggi lo fanno beh la differenza è che questi pensano che le prese siano una roba eterea che sta lì non hanno ben capito da dove arrivano le entrate fiscali pensano che siano le trattenute sui dipendenti pubblici che una partita di giro ma comunque insomma l'unico che svetta ve lo dico in questa terra dei nani mi sembra il ministro del sviluppo economico che sembra che abbia voglia comunque nei limiti di questa indecisione del governo di aprire oggi si capisce benissimo nella diciamo nelle sue dichiarazioni sui giornali l'altra cosa oggi fantastica sui giornali soprattutto su Corriere della Sera è questa app volontaria cioè questi ci hanno raccontato che ci facevano un'applicazione volontaria che però non funzionava se il 60 per cento degli anni non la sottoscrive se la si scaricava e non funziona ovviamente se non si fanno i tamponi perché se non faccio un tampone non so di essere positivo e quindi chi se ne frega di essere tracciati diventerà obbligatoria di fatto diventerà obbligatoria perché se non hai l'app non puoi fare certe cose se tu mi obblighi a prendere un'applicazione che figurati non traccerà mai i miei dati non traccerà no e che fa questa app ci fa il sugo con le nostre informazioni che cosa ci fa ragazzi è una roba su cui siamo pazzi io sono disponibile a togliere un po della mia libertà cioè uscire di casa ovviamente per essere tracciato ma deve dobbiamo stare molto attenti io con questi cialtroni lasciare i miei dati non ci sto non mi piace neanche per google e facebook ma vi assicuro che tra google e facebook e la pisano i 74 esperti che ti bannano se non sei d'accordo con loro conte e casalino io non so tra questi chi preferisco di più a loro i miei dati non li voglio dare tra l'altro hanno stabilito un test psicologico fantastico manderanno 150 mila questionari c'è oggi sui giornali uno di questi mi fa vedere il questionario una delle domande del questionario 150 mila italiani test psicologico è ritieni che la tua vita possa cambiare dopo il covid 19 li abbiamo pagati li abbiamo pagati cioè la domanda che fanno è ritieni che la tua vita possa cambiare dopo il covid 19 io voglio incontrare qualcuno che venga qua e mi dica no no guarda non cambia non cambia hai perso un mese di fatturato certo forse per loro non è cambiata perché hanno continuato a fare tutte le stesse cose ma nel mondo normale è cambiata completamente comunque questo è il test psicologico che poi voglio dire lo facciamo a 150 mila persone ragazzi ve lo do io gratis l'italia sta nella cacca la gente che sta a casa nei suoi 50 metri quadri oggi il giornale se la prende giustamente con fucsas che ieri diceva dovevamo vivere le non si possono fare case sotto i 60 metri quadri grazie fucsas per l'informazione vorrei che vi fosse chiaro che siamo in una follia totale totale oggi panarari fa un bellissimo pezzo sul 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 come si chiama sul sulla stampa perché che cosa dice panarari sulla stampa ve lo leggo perché è stupendo dice ma giuseppe conte non riesce a decidere ha fatto una task force dietro l'altra ma la sostanza che dice che giuseppe conte ha la sindrome del braccino sapete quella che fai così che stai così quando giochi a tennis perché stai 4 a 5 e vuoi hai paura di fare il 7 o sei paura di vincere o sei di perdere c'è il braccino quello dei tennisti ha paura di sbagliare colpo e quindi fa tutto il contrario di tutto le sue commissioni le sue task force questo è la fenomenologia del braccino del tennista e trovo geniale questa definizione che ha fatto panarari e lo fa sull'europa mess si mess no bond si bond no e lo fa sulla riapertura riapertura si riapertura no imbarazzante imbarazzante conte però panarari se lo cucina da per suo massimo fini oggi intervistato al quotidiano nazionale dice un'altra cosa sacro santa perché questa è una cosa che tante persone anziane mi scrivono e mi dicono ma è vero che noi verremo rinchiusi a casa e loro e fini dice giustamente reclusi per il nostro bene e io non lo accetto io non lo accetto e io sono d'accordo perfettamente ovviamente con massimo fini che altro stavo vedendo qua beh oggi rezza fa due interviste due interviste rezza ed è già un po cambiato il vento perché ha capito forse anche le cazzate che ha fatto quell'altro ricciardi l'hanno fatto capire che insomma stanno sono sul sul come su on the brink sono sull'orlo del precipizio rezza oggi dice ora il rischio è accettabile fino all'altro giorno dicevo che non dobbiamo andare al mare anche d'estate ora il rischio è accettabile poi in realtà leggi oggi un pezzo di sergio aridi come si chiama un preomologo importante milanese che vi dà il senso di come sergio arari che vi dà il senso di come la scienza non abbia capito assolutamente nulla perché un'altra cosa è veramente veramente non me li mandate più i messaggi non voglio più messaggi sulle influenze del 5g col covid un'altra delle stupidaggini tirate fuori da un professore che conte vuole prendersi come suo consulente che è una correlazione della cavolo e che denota l'imbecillità di chi lo sta dicendo poi voglio dire ognuno la pensi come ne pare ma per quanto mi riguarda non parlate con me andate a sentire qualcun altro così come la questione della di arari che tratta oggi sul corredo della sera all'inizio mi stavo arrabbiando dico ecco l'altro medico che dice l'ombardia inquinata perciò c'ha più morti degli altri in realtà arari con grandissime geniale come possono dire perfidia fa capire che sono tutte stupidaggini cioè questi studi sono stati fatti a cavolo non c'è scritto da nessuna parte che ci sia influenza tra le condizioni del tempo e ci sia alcuna correlazione perché molti dicono questo tra l'inquinamento e il virus tra l'altro sostiene una cosa che è molto intelligente a quale io non avevo riflettuto scusate mi spiegate per quale motivo le persone che sono più soggette all'inquinamento cioè sono gli adolescenti i bambini le persone giovani che di fatti da hanno problemi proprio per l'inquinamento su cui sono nati in cui vivono alla fine sono quelli che il covid non se lo prendono statisticamente sono quelli che sono gli asintomatici beh questa a questa domanda ovviamente di arari è fantastica e smonta una delle tante fake news ragazzi le fake news ieri ho letto uno storico che smontava la fake news del nostro commissario stadionale alcuni che invece di comprare i ventilatori di cui non riesce a trovare ventilatori non riesce a trovare mascherine oggi c'è il giornale che dice un giornale che dice che in realtà le mascherine sono state comprate i ventilatori al primo marzo quindi con ritardi su ritardi invece di occuparsi di quelle robe là dice che in lombardia ci sono stati più morti per il coronavirus rispetto a quelli che ci sono stati con la guerra mondiale cazzata una roba pazzesca toc toc arcuri lavora lavora lo storico fallo fare a qualcun altro perché se vuoi fare politica cosa che non ti sta riuscendo peraltro neanche molto bene ti metti in fila con star molto superiori alle tue caro arcuri che sono rezza ricciardi brusaferro galli e poi forse arriva anche arcuri borrelli secondo me che io ho criticato tanto che fa la sua inutile conferenza stampa alla fine resta semplicemente una persona inadeguata per quel ruolo ma una persona per bene ovviamente ma tutto il resto delle persone stanno semplicemente cercando una candidatura nel partito democratico e la otterranno la otterranno non vi preoccupate siete tanti e non so anzi pare che mi sia andata male a arcuri perché la vera nomina che voleva era in leonardo e non l'ha ottenuta incastrato in questo ruolo che serve a nulla in cui parla dei morti in lombardia ma non si becca la nomina pesante per i prossimi anni che in leonardo a proposito di nomina è fantastica la storia e ha ragione sanzonetti che piazzano la presidenza dell'eni e in consiglio di amministrazione del fatto quotidiano che è una roba pazzesca non ci avrebbe pensato neanche soltanto soltanto travaglio e quel giretto la di savonarola non trovano assurdo che il consiglio di amministrazione di un giornale sia all'interno della che sia presidente dell'eni che peraltro voglio dire non è proprio una società l'ultima società è diverso dal caso dell'avvocato simon tacchi come ha notato anche camilla conti come tutti quanti voi sapete che dal consiglio di amministrazione del corriere della sera va nella task force di colao una cosa è la task force di colao e una cosa è la presidenza dell'eni ovviamente l'unica cosa positiva è che ci siamo tolti dalla presenza dell'eni la marcegaglia le cui capacità manageriali sono quelle che hanno fatto sì che l'azienda l'avesse tolta dalla propria dei propri affari quelli della marcegaglia e avesse detto questa si occupa di confindustria e se proprio volete dell'eni pensate un po che danni sulle nomine però oggi c'è da registrare tutto il casino di di battista perché di battista continuo a dire che la nomina di descalzi alla passata dal movimento 5 stelle è scandalosa e lì c'è ragione un altro dei grillini che hanno secondo me un po di sale in zucca oltre a patronelli sto fraccaro che è il sottosegretario della presidenza del consiglio dice ragazzi ma noi siamo in un governo di coalizione c'è che che facciamo cambiamo in questo momento i vertici di tutte quante quelle aziende che nei prossimi anni dovranno investire miliardi prossimi giorni dovranno investire miliardi che gli altri non hanno e sarebbe una cosa da matti e difatti il presidente della repubblica che non ha nessun titolo per poterlo dire un'invasione di campo mostruosa però nella sua moral suasion ha detto questa roba qui bravo fraccaro a me delle nomine non me ne fotte nulla di questi presidenti amici di travaglio trovo che sia semplicemente svelato il fatto che ognuno quanto sente no il presidente del consiglio amico ci fa affari ma il punto è un altro per fortuna che questo governo ha rinnovato le nomine del precedente governo che non so se sono buono che sono sbagliate ma comunque si dà una continuità perché in questo momento ci possiamo permettere tre quattro cinque mesi per capire dove ti trovi quando entri nell'emi non è che tu dici ah ho capito subito come si manovra o all'interno dell'enel o all'interno di snam o all'interno di fin mecca snam non era in rinnovo quindi io sono totalmente d'accordo con fraccaro grande team e stima per un governo che è riuscito a non piazzare le persone sue come penso avrebbe voluto molto perché tutti i governi fanno lo spoil system sulle grandi nomine che contano nel frattempo una deputata fichiana si dice così cioè del gruppo di fico ha detto che di battista sulle nomine è uno sciacallo bene e il fatto dice che conte pensa al veto al consiglio europeo del 23 aprile io mi fido del fatto zero ma comunque andiamo a vedere san lusti risponde dei lettori che si sono arrabbiati ieri perché gli ha dedicato due pagine all'intervista presente del consiglio conte ve l'ho già detto anch'io ieri se a me viene conte in trasmissione non lo prendo a cazzotti perché io non prendo a cazzotti nessuno e quelli che pensano che io debba prendere a cazzotti qualcuno in televisione si sbagliano io prendo a cazzotti soltanto me stesso e voi e tutti quanti in questa mia zuppa nel resto quando si viene nel salotto a casa mia cerco di essere garbato stessa cosa ha fatto san lusti si arrabbiano con san lusti conosco il procedimento e san lusti oggi risponde dicendo ragazzi l'accordo di di forza italia o dei moderati con questo conte sarebbe un disastro quindi io faccio le interviste sono garbato ma vi dico anche quello che penso e che sarebbe un disastro cosa che peraltro mi sembra oggi un'intervista alla carfagna che è un aperturista notoriamente all'interno del movimento di silvio berlusconi aperturista verso la sinistra però ma non verso il governo conte vi può piacere o non vi può piacere ma l'idea che ci sia un governo conte con il supporto di berlusconi secondo molti osservatori carfagna san lusti e non solo è difficile la meloni intervistata la stampa dice il movimento 5 stelle è spaccato e quindi è normale che conte cerchi qualche sponda e questa sponda potrebbe averla in berlusconi però berlusconi ci sta san lusti e carfagna dicono di no questo per quanto riguarda la politica poi veramente sulla politica c'è un pezzo stupendo di valentina di giacomo valentina di giacomo scrive per il mattino il mattino è un giornale che forse voi non leggete perché non è a tiratura nazionale anche se un giornale del gruppo calta girone però io oggi quando ho letto il mattino detto per fortuna che c'è qualcuno che lo dice io l'ho detto in tempi non sospetti c'è un rap stupendo e ringrazio il remix che mi hanno fatto su quella roba lì io continuo a dire nonostante tanti parlamentari mi chiamino è sbagliato non si trattano così parlamentari il parlamento è un'istituzione ma che dobbiamo fare eccetera la verità è quella che scrive il mattino c'è stata una sola votazione in questo parlamento da fine febbraio vergognatevi io ve lo dico perché spesso forse è brutta la parola vergognatevi ma abbiate pazienza in questo momento in cui conte fa 212 atti governativi soltanto una votazione in parlamento solo una io vorrei pannella ritornare in questa terra e spiegare ai nostri parlamentari che non è possibile e non esiste che siccome hanno paura del virus oppure sono disorganizzati oppure non sono in lockdown quello che volete voi a me non me ne fotte nulla 212 212 decreti di questo governo una votazione poi mi spiegherete che sono gli atti tecnici che lavorano le commissioni che ci sono gli atti legislativi quello che volete si è riunita 14 volte la camera 11 il senato per quanto mi riguarda in questo momento dovrebbero essere convocati sempre ci sono problemi logistici perché non ci sono per quelli che per tutti gli italiani ci sono problemi di contagio perché non ci sono per le commesse per gli autisti dell'autobus ci sono problemi con la famiglia perché non ci sono per 30 milioni italiani ci sono problemi perché non riuscite a essere pagati per questo e no questo no perché parlamentari come tutti i dipendenti pubblici vengono pagati al 100 per cento e questa è una mia posizione anticasta no signori non è una posizione anticasta è una posizione di difesa della democrazia chiaro in una difesa della democrazia il parlamento per quel che conta deve funzionare e poi qualcuno ti dice ma tanto il parlamento decidono 4 5 no in un momento di emergenza il parlamento anche plasticamente lo voglio vedere funzionare anche gli altri parlamenti non funzionano a parte che il mattino ci fa vedere come funzionano in altri modi in maniera più organizzata mi importa relativamente bene feltri contro la lezzi un pesto da leggere contro l'ex ministro della sanità dice riempi i suoi discorsi di banalità la lezzi quando va bene e di minchiate solenni quando va male attacco diretto di feltri alla lezzi però oggi decreta il decreto di aprile ovviamente slitta come tutti quanti decreti questo di questo governo quando si tratta di parlare di soldi perché improvvisamente slittano l'ultima dedica la faccio a saviano perché saviano secondo me non era così c'è una componente anche della destra che ha sbagliato nel ghettizzarlo e rimetterlo là dentro ma saviano è diventato un orrore un orrore ma non per le due pagine noiosissime e per la sua scrittura incomprensibile non per quella sua area da santone che vi dico io qual è la verità non per il fatto come qualche cazzone continua a dire che vive in un come si dice un appartamento a new york a me non me ne frega niente puoi anche vivere con l'era agosto e lo champagne il problema è quello che dice oggi dice che la lombardia paga il suo garantismo questo ragazzo è a un problema a un vero serio problema la sua scorta la sua new york la sua vita il suo successo lo hanno completamente scollegato dalla realtà e questi signori di repubblica lo utilizzano come un un automa cioè a comando e vai contro la lombardia e va contro la lombardia e vai contro garantisti vai contro i garantisti mi dovete spiegare voi che senso ha dire che la lombardia paga il suo garantismo se non mettere insieme pai ed apple per fare il suo pineapple roba da matti dice il garantismo alla degli ultimi 25 anni è stata una storia di puttane il garantismo negli ultimi 25 anni è stata una storia di puttane che hanno sbandierato beccaria solo per vendersi meglio questo è l'atteggiamento di un sincero democratico e poi si arrabbia se lo attaccano il garantismo viene vero vive nelle organizzazioni no profit quelle che vanno a prendere il come si chiama il vanno vanno a prendere i profughi e ancora il garantismo è morto quando si è venduto e a berlusconi e ora a salvini allora questo è un pezzo di un ragazzo che ha dei problemi ma ve lo dico seriamente ha dei problemi rimettetelo a prendere il caffè al bar riportatelo in una discoteca fatelo entrare in una libreria fate di prendere la metropolitana senza guardia del corpo fatelo andare da qualche parte e a capire che il mondo non si chiude a largo fochetti o come cacchio si chiama repubblica e quei quattro intellettuali che come per julio iglesias quando lo vedono lo applaudono un cazzone totale ciao ciao